Una sconfitta dove la Sampdoria era passata un'altra volta in vantaggio. Una Sampdoria che oggi mancava anche dei suoi giocatori di qualità, Caputo, Diuricic, ha giocato bene Sabiri ma non è bastato. La Sampdoria sta facendo fatica a mantenere il risultato, a mantenere la gestione dei 90 minuti. Deve capire che nell'arco dei 90 minuti si deve essere bravi anche a capire quello che deve fare una squadra. Non sempre portarsi tutti in avanti e lasciare degli spazi perché ci sono anche le altre squadre dove preparano le partite ai punti deboli dell'altra squadra. È una Sampdoria che sta facendo fatica su tutto. Io non so cosa succederà questa settimana ma ci deve essere una svolta a livello mentale, a livello di qualcosa perché mi sembra che a parte le partite che giochi in casa la Sampdoria e si veda qualcosa di più, fuori è un'altra Sampdoria. Mi sarebbe piaciuto forse dire che non siamo all'inizio ma a partite invertite se con le più forti giocava fuori e con quelle simili a lei giocava in casa che Sampdoria sarebbe stata. C'è anche questa curiosità. In questo momento stiamo facendo fatica. Ci sono tanti allenatori che sono stati mandati a casa anche per meno. Delle volte si cerca un attimino. È normale che l'allenatore è quello che paga per tutti. È il primo il capo ispiratorio. Se la squadra non va, se la squadra non lo segue, questo lo può percepire chi è all'interno, chi è che vede la Sampdoria tutti i giorni. Però ci possono essere le soluzioni o la situazione perché possano cambiare allenatore per cercare di trovare delle motivazioni in più rispetto a quelle che ci sono ora.